La base delle palme che si trovano alle mie spalle è stata completamente bruciata dall'ingendio che si è verificato proprio a ridosso della scuola Falcone-Borsellino. Sono io molto rammaricata perché ogni anno già anzitempo sollecito l'attenzione della cura e dell'incuria, soprattutto delle aree limitrofe. L'avevamo fatto circa un mese fa in occasione dell'inaugurazione del nuovo tragitto che collega la chiesa con la scuola ed era stato allora preso l'impegno di prevenire quello che è stato inevitabile. Sabato il problema si è posto nel plesso Falcone-Borsellino, tra l'altro con l'aggravante che abbiamo dovuto attendere l'arrivo dei Vigili del Fuoco e abbiamo dovuto rimboccarci le maniche. Io personalmente con i collaboratori scolastici chiamati di fretta e furia per cercare di attutire i danni ho sollevato ancora una volta il problema perché temevo che si sarebbe steso come di fatto è accaduto e ieri ancora una volta si è riproposto lo stesso film. A nulla sono servite le segnalazioni della dirigente che da oltre un mese aveva già fatto presente a chi di competenza la situazione fuori dalle scuole nei quartieri di Settefarine e Albani-Roccella, senza però ricevere risposta alcuna. È una situazione che lascia l'amaro in bocca a fronte del fatto che noi all'interno degli edifici scolastici abbiamo cercato di tenere tutto in ordine anche per prevenire queste situazioni oltre che per favorire e creare bellezza all'interno degli edifici e permettere ai bambini di entrare in ambienti accoglienti. Però ecco non possiamo farcela da soli e quindi è veramente triste che nonostante i proclami, nonostante ecco la buona volontà di sottolineare l'importanza della sinergia tra enti che ruotano attorno ai nostri alunni e che ruotano intorno agli abitanti di questa città, poi si ripropongono sempre gli stessi scenari. In tutti i plessi dell'Istituto Comprensivo Don Bosco è netto il divario tra la cura dei luoghi esterni della scuola, che la dirigente ha cercato di rendere belli e funzionali per gli studenti, e quelli oltre il perimetro dell'Istituto. Lo abbiamo fatto solo con le nostre forze, con le nostre risorse personali, con la buona volontà, però ecco questo non basta, bisogna veramente cambiare rotta. L'appello della Preside è che si intervenga subito nelle zone a rischio, senza aspettare che possa verificarsi il peggio, né rimandare gli interventi all'inizio del nuovo anno scolastico. Se noi e se chi di dovere tiene in mente che la scuola non ha mai termine, perché il tempo di interruzione delle attività didattiche dovrebbe essere tempo prezioso per riprogrammare il nuovo anno scolastico, allora forse saremmo in grado di invertire la rotta, perché se adesso, a fronte di quello che accade, si rimanda tutto a settembre, quando ricomincerà la scuola, sarà nuovamente tardi per cercare di creare le condizioni perché il nuovo anno scolastico riparta nel migliore dei modi.